Dicevamo è un classe 2001, Gabriele, adesso siamo invece su Yannick Simo, ma coltivi qualche altra passione, qualche altra cosa, non so, internet, videogiochi, queste cose qui che poi ci sono, ci stanno effettivamente per i ragazzi di questi, da queste parti, dal campo 2. Ora abbasseremo pian piano la voce, tra poco, c'è un'azione per noi, ci sducaniamo per ora Massimo, così seguiamo la partita, poi magari ci sentiamo, ci si è consacrato come un appuntamento prezioso, consolidato, nel panorama mondiale, c'era da aspettarselo, anche perché è una finale, 3 a 3, si gioca, bravo, bravo Sin di partire bene dopo aver perso il primo set, 6-3, bravi, bravi, e si è chiuso qui, si è chiuso qui con Yannick, a presto, 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 a Grazie a tutti 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 Outro Outro Outro